Salve a tutti! Ormai in questo canale di vecchie macchine da scrivere ciclostili e calcolatrici ci sono quasi 100 filmati. Il lavoro è ancora lungo perché ce ne sono più di 300 da recensire. Intanto, a parte fare gli auguri per il nuovo anno, volevo mostrare alcune vecchie macchine da scrivere ciclostili molto interessanti che mi sono arrivati di recente. Poi vi farò anche vedere mentre uso l'eroina. Come in tutti i filmati di questo canale, ci sono i sottotitoli per più di 30 lingue. Dovrebbe esserci anche la vostra. Se non c'è, ditemelo che l'aggiungo. So che siete impazienti di vedermi usare l'eroina, ma inizio la pezzo più interessante, direi, che è questo Papirograph di Zuccato. Questo dispositivo, adattabile intorno al 1874, è un antenato dei ciclostili e delle fotocopiatrici. Una prima forma tecnica di riproduzione di documenti, nota come duplicazione con stencil, inventata da Eugenio de Zuccato. Converete che sia un pezzo meraviglioso, completo anche di tutti gli accessori originali. Eccoli qui, è la prima volta che li tiro fuori dalla scatola. È veramente emozionante. Il corredo comprendeva bottiglie chimiche, contenitori in ceramica stampati a trasferimento, tamponi di lavorazione, sei fascicoli sigillati di carta papirografica, dieci scatoli di soluzione di smorzamento, alcune ancora sigillate, cartella di lavaggio, portfoglio su tamponatura, libretto di istruzioni stampato con iscrizione a mano, prova di stampa, a breve seguirà, copia relegata. C'è anche una lettera scritta a mano che il rivenditore di Londra ha scritto a un cliente. Visto che c'è il manuale, spero di capire il funzionamento di questo dispositivo e di provare a usarlo in un prossimo video, magari producendo qualcosa con gli accessori originali. Andiamo avanti. Comunque siamo ormai nel nuovo anno. Volevo intanto augurare a tutti un felice e prospero anno nuovo. Spero che ognuno di voi raggiunga le tue mette. Ringrazio di cuore tutti gli iscritti su questo canale e anche i non iscritti. Sono contento che appreziate questi bellissimi dispositivi in un'era dove tutto sembra dover essere digitale o artificiale. Vorrei ringraziarvi di persona e se scrivete nei commenti qualche idea che avete su dei video da fare, la prescrivo volentieri. Prima di usare l'eruina vi mostro qualche altra macchina. Questa MAP è una macchina portatile francese del 1921 con delle bellissime decorazioni. il produttore è MAP, Manufacture Desarmes de Paris. Questa è un'altra portatile, la Monica, una macchina tedesca del 1927. Molto bella con quattro fili di tasti. Questa è una AEG Standard 3 del 1921 con un numero seriale molto basso, il 158. Una macchina tedesca in ottimo stato. Infine questa New Franklin del 1896. In effetti qui di nuovo non c'è proprio niente, anzi è in pessimo stato. Mancano dei pezzi e c'è parecchia ruggine. Ma mi piacerebbe rimetterlo a posto, con tanta pazienza tanto tempo. Ora un ciclo stile Roneo V circa del 1910 della Neo Style Company Gran Bretagna. È un duplicatore cera stencil monocilindrico con meccanismo inchiostratore interno, meccanismo a mano e coperchio in latta. C'è ancora una vecchia matrizia attaccata al cilindro. La manovella gira bene. Ecco il suo coperchio con la scritta. Prima di usare l'eroina voglio mostrare altri due ciclo stili. Questo è un ciclo stile King circa del 1920 con manuale di istruzioni. Ci sono anche le schede per le copie nelle confezioni originali. Anche qui spero di capire il funzionamento dal manuale e mostrarlo in un prossimo video. C'è un pennello. Questa è una semplice pressa, sembra per biglietti da visita. Il rullo inchiostratore passa sul timbro e poi lo presso sul biglietto. Dovrebbe essere circa del 1950. Questa macchina è una Olivetti College circa del 1989. Mi è stata donata da un'amica di mia moglie, Melissa. La ringrazio moltissimo. È una bellissima macchina. È veramente in ottimo stato. Il design è di Mario Bellini come anche di altre macchine Olivetti. Ma il bello di questa macchina è la valigetta. Guardate che bella. Con diverse maniglie regolabili e con le scritte Olivetti in tutta la valigetta. Si potrebbe usare una sfilata di moda. Ora è il momento di usare l'eroina. Eccola qui. È una macchina tedesca circa del 1921 della Reliable Schrei Maschinen GmbH progettata da Arno Kurt. L'ho comprata online. Me l'hanno spedita con un pacco anonimo. In Dogana mi hanno chiesto cosa c'era dentro al pacco. Gli ho detto che c'era la mia eroina. Mi hanno fatto un po' di storie. Però quando gli ho detto che era per mio uso personale mi hanno lasciato stare. La sensazione che si prova a usarla è molto bella. Ma dopo aver iniziato a usarla non si riesce più a smettere. Sapevo che mi stavo portando nel baratro ma continuavo a usarla. Non riuscivo a separarmi da lei. Dopo un po' di tempo sono riuscito a smettere. Ammetto che però ogni tanto lo uso ancora. Questa è una ABC. Una macchina da scrivere portatile circa del 1951 con la valigetta. È rossa anche lei come lo Olivetti College di prima. Queste sembrano macchine da scrivere dove mancano dei pezzi. In realtà sono modelli dimostrativi. Servono per far vedere il funzionamento dei meccanismi interni. Vedete? il meccanismo delle leve dei tasti. Il meccanismo delle maiuscole. La forcella del nastro. L'avanzamento del nastro. Il backspace. La cremagliera ai margini. Questa è una macchina che mi piace moltissimo. È un Underwood Elliot Fisher circa degli anni 30. Scrive verso il basso e si muove su dei binari. Dovrebbe servire per scrivere sui libri. È molto affascinante. Sono curioso di farlo funzionare e di farci un video. E infine un duplicatore a pressione di documenti francese. probabilmente d'inizio 1900 con una bellissima scatola. È Lepardigraf da Tolone sulla costa sud francese. È un duplicatore dei manoscritti su lastra di vetro. Ops. C'è ancora scritto qualcosa con una bellissima calligrafia? Anche il coperchio della lastra è molto bello. Spero di riuscire a capirne il funzionamento e di mostrarlo in uno dei prossimi video. Ecco fatto. Rinuovo i miei auguri e spero di mostrare queste macchine nei prossimi video. Scusate se chiudo bruscamente ma voglio usare l'eroina ancora per un po'. Ma è l'ultima volta, giuro.